Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Cuore Azzurro. Questa sera siamo ospiti del bar Il Covo sotto i portici di Corso Italia 51 qua a Novara. Vi presento subito i nostri ospiti, innanzitutto ciao Fabrizio, grazie per essere qui accanto a me anche questa sera e vi presento Omar Cailoti, difensore del Novara FC e Attilio Barlassina, giornalista dell'Anza. Buonasera. Fabrizio, è una di quelle puntate che ti dici tra te e te mentre arrivi, mentre stai preparando, io me lo sono detto, preferirei essere da un'altra parte, per questo ringrazio doppiamente Omar Cailoti, ci sono dei momenti in cui si sgomita per esserci e dei momenti dove esserci significa avere veramente a cuore una situazione, volerla affrontare, volerne parlare, accettare quello che si chiama il contenzioso e qualche dissenso. Spesse volte, chiudendo le nostre puntate, ripartiamo da dove ci siamo fermati, dal saluto dei tifosi, dall'incoraggiamento nonostante una prestazione magari non meravigliosa, non brillantissima, questa volta ripartendo proprio da quei presupposti dobbiamo dire da una chiamata sotto la curva, da un colloquio durato 7 minuti, da uno scambio di opinioni, direi monodirezionali, i tifosi hanno fatto valere quelle che erano le loro pretese giuste, hanno rimarcato quello che hanno trovato di sbagliato in questi giorni e a oggi che siamo qui per confezionare questa trasmissione di Cuore Azzurro, queste notizie, queste cose sono di dominio pubblico, se ne è parlato dappertutto sui social, ognuno ha riportato il proprio pezzettino di storia, l'hanno un pochettino composta, Omar è uno di quelli che sotto la curva ci è andato e ha sentito che cose i tifosi hanno chiesto, hanno reclamato in termini di impegno, sacrificio, sudare per la maglia e come all'inizio dell'anno cantavano noi vogliamo gente che lotta, mi sembra che l'abbiano detto ancora più forte in questo caso, è la prima volta che finite sotto la curva a parlare così, ci eri abituato a cose di questo genere? No, la mia carriera è appena iniziata, sono due anni che gioco con gli adulti, quindi è la prima volta e penso sia stato giusto comunque confrontarci con loro e abbiamo parlato più che per i gol presi, per appunto atteggiamento e quello che dovremmo dare di più in campo. Omar Cailotti un acquisto del Novara Football Club che ha firmato un contratto nemmeno troppo breve fino al 2025, quindi hai sposato questa causa, come si dice in questi casi, arrivi dal mondo delle giovanili, ma giovanili importanti, hai già debuttato in Serie A perché hai calcato il campo della Serie A con il Bologna una mezz'oretta contro l'Inter a San Siro se non sbaglio, quindi vedi che mi sono documentato in maniera corretta, quindi la tua esperienza è decisamente importante, ma hai conquistato soprattutto con i tuoi pari età dei traguardi molto importanti, ci parli brevemente di te, di questa tua storia? Ma sì, sono andato a Bologna dopo aver iniziato nel direttantismo in Serie D a Monte San Giusto e primo anno è stato un anno un po' difficile, soprattutto i primi mesi, poi con il passare del tempo abituandomi anche a vivere la città, a relazionarmi con i compagni di squadra e anche in campo, le cose sono andate sempre in meglio e nel giro di tre anni dopo abbiamo avuto anche delle, sia io che tutta la squadra, delle belle soddisfazioni. Beh io direi che Cailotti è uno di quei giocatori che possiamo classificare tra quelli di prospettiva ed è un giocatore secondo me importante per il cosiddetto roster del Novara. Attilio, come hai visto questa partita che abbiamo appena lasciato alle spalle, io sono partito un po' duro, me ne rendo conto, ma se da quel punto dovevamo partire non è stato sicuramente uno scambio di convenevoli semplice. Al di là della partita di ieri, io credo che ci sia un problema di fondo, la frustrazione viene dalle aspettative che ci sono e il mancamento, diciamo così, di queste aspettative. Ora tu guardi la classifica, siamo a sette punti dalla prima, dopo una serie di partite imbarazzanti, va bene, senza offesa nessuno, no? Abbiamo una difesa che ha preso 22 gol in 18 partite, se ricordo bene a memoria, nonostante questo siamo lì. Qual è il problema? Il problema è che si è sempre detto, in particolare dal Presidente e poi da altri, che questo Novara doveva vincere il campionato e non è così. Il Novara è una buona squadra, ha alcuni elementi, i cailotti io ritengo che sia un ottimo elemento anche in prospettiva ma anche nel presente, ed è una squadra che può arrivare sicuramente nei play-off, ha un discreto parco giocatore, ma non è una squadra che può vincere il campionato. Il problema nasce da qua. Tu dici io voglio vincere il campionato e poi non hai la squadra che fa risultato, è evidente che viene fuori un disastro. La squadra, dal mio punto di vista, c'è, ha delle buone basi e va costruito lungo un percorso non di questo anno, di due anni, magari di tre. Ora, il Presidente ha altre idee anche per altri motivi, però i risultati sono questi qua. Abbiamo chiamato tre allenatori nel giro di neanche un giro d'andata e ne cambieremo altri se il problema è che dobbiamo vincere il campionato. Questa squadra, spagherei del mio per sbagliarmi, a oggi non ha dimostra di essere una squadra che può vincere il campionato. Ieri, non è che poi abbia fatto, al di là di riscrivere da ridere perché tu commenti un 4-0 e a me tocca dire che i primi 20 minuti, a parte il gol che abbiamo preso, non abbiamo mica giocato male. Potevamo fare 5-6 gol noi. Anzi, è proprio quello il punto. Il problema è che prendiamo tanti gol. È stato proprio uno dei migliori Novara in questi primi minuti. Senza esagerare, comunque voglio dire, abbiamo creato occasioni. Non l'abbiamo messa dentro e a quel punto lì paghi. Abbiamo preso il primo gol da ridere, il secondo il contropiede, il terzo non parliamone e poi è bello che finita la partita. Poi è giusto chiedere ai giocatori. Però io capisco anche, chi ha fatto sport capisce che sul 3-0 al fine del primo tempo fai fatica a essere propositivo ancora. Speri solo che finisca la partita e vai a far la doccia. Sì, 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 su quello indubbiamente. Io rimango di un'idea e anche questa ce la siamo raccontata tante volte, l'abbiamo condiviso con chi ci segue su Cuore Azzurro. Il Novara ha preso un po' questa, lo metto tra virgolette, abitudine di cominciare le partite puntando la salita, ovvero partiamo sempre in difetto. Dopodiché si crea un atteggiamento che rimane una costante e secondo me è successo anche un po' in questa partita, approfitto di Teomar che sei qui, che si crea confusione, nel senso che approcci la partita, anche bene come è successo nella partita che abbiamo appena disputato contro la Ferral Pissarò, subisci il gol e da lì si crea quella frenesia disordinata di cercare ognuno di metterci del proprio e si perde il senso e il concetto di squadra. Ci si slega un pochettino. A me siamo una costante, una cosa che rimane, ma può essere un'idea mia con questo, non ha nessuna volontà di dover essere condivisa da tutti o recepita da tutti, è la sensazione che ho ed è un dato statistico tra l'altro. Quindi c'è una parte soggettiva che è quella che io percepisco, ma c'è anche la parte oggettiva che mi dice, porca miseria, tutte le partite quando si cominciano le cominciamo in salita. Ci piace fare il Gran Premio della Montagna, se vuoi. Non trovi che ci possa salire? Sì e no, francamente non ho in mente questa statistica. A me sembra che uno dei problemi sia che mancano un paio di leader caratteriali di questa squadra, che non vuol dire essere più bravi in campo. Gente, anche di esperienza, alla quale i ragazzi più giovani, magari come lui, possano appoggiarsi quando le cose non vanno bene. Il Novara questi giocatori non ce li ha. Avrebbe dovuto avere qualche leader tecnico in campo, che fino ad oggi non ha fatto vedere Gran Premio, riferisco in questo caso anche a Galoppini, che secondo me in questo momento è quello che più è deluso, ma sempre rispetto alle aspettative. Lui avrebbe dovuto essere il giocatore che faceva la differenza e non l'ha fatta. Quindi è per questo che la delusione è maggiore. È proprio una questione di carattere. È una squadra che nel momento del bisogno non ha quegli elementi che se la prendono in spalla e la portano avanti. Semiglioni ha dichiarato alla vigilia della sua gara d'esordio sulla panchina, devo far partire una scintilla, devo far scattare qualcosa che sproni i ragazzi dal punto di vista emotivo a ritrovare fiducia in se stessi e a spendersi fino in fondo per la squadra. Poi questa cosa succede negli allenamenti. Omar, quando vi trovate avete avuto tutta la settimana per preparare questa partita. Rispetto alle vecchie, chiamiamo le vecchie abitudini del mister che ci ha appena lasciato, cevoli. Che cosa è cambiato con Semiglioni sulla panchina? Beh, è cambiato che magari cerchiamo di avere un atteggiamento più propositivo, più positivo anche durante gli allenamenti, di dare di più, di andare più forti, di essere più aggressivi e questo è stato proprio alla base, appena arrivato nel mister, la prima cosa che ci ha detto. Quindi se ti dovesse capitare di dover scegliere tra fare un passaggio di scarico o azzardare la giocata che potrebbe sollevare anche il dissenso sulle tribune perché non va a buon fine, tu ti azzarderesti anche se sei un difensore di giocare un pallone che ti può mettere a rischio e darti meno sicurezza di star tranquillo che non un passaggio in orizzontale o una palla appoggiata come viene e viene. Adesso lo stai chiedendo a me che sono difensore, quindi devo sempre calcolare un attimo quanto è il rischio. È una questione di mentalità, insomma quello che devo toccare. No, mentalità, sì, cercare di giocare in avanti, anche quando non abbiamo la palla, andare forte sull'uomo e se proprio cercare di recuperare la palla la metà al campo avversario. E io direi che tu sei uno dei giocatori che in difesa gioca di autorità perché ha una prestanza fisica notevole, la tua statura è credo una delle più importanti del pacchetto difensivo novarese, sei un metro e novanta tutto, perché così spannometricamente guardandoti il metro e novanta ce l'hai, quindi sei un giocatore che di posizione dovrebbe garantire solidità alla difesa, nella tua crescita credo che farai molto leva su questa cosa delle tue caratteristiche, della tua statura, dove facciamo un segreto, insomma si vede e si sa che devi spenderti su quello. Senti, per quanto riguarda i minuti giocati in campo, ti aspettavi di giocare di più o sei soddisfatto di quelli che hai giocato? Ma uno spera sempre di giocare di più, è importante allenarsi sempre bene e farci trovare pronto quando si viene chiamati in campo. Tu hai già fatto un bel precampionato, mi viene da dire, ti avevo notato nelle amichevoli, nelle partite di avvicinamento al campionato, sei arrivato già in condizione, non mi sembra che abbia faticato più di tanto, sai perché te lo dico? Perché di solito i lunghi si dice che vanno in condizioni dopo, i brevi linei vanno in forma subito, i lunghi invece acquisiscono la forma migliore dopo un po' di tempo che si preparano. E sono rimasto stupito di vederti invece già così in condizione, già in grande forma nelle partite di preparazione al campionato. avevi già fatto un breve campionato. Sì, mi ero comunque allenato prima di vederti, sì sì, un po'. Ti dico questa cosa perché volevo portarti su un discorso un pochettino più facile magari da affrontare che non dover fare l'analisi della partita che abbiamo appena lasciato alle spalle. La tua origine è del Marocco e in questo momento è una nazione che ha molte attenzioni su di sé per i risultati nel campionato mondiale. E c'è una frase di un film italiano, io mi trovo sempre a parlare di questo film, non so perché, che dove, chi era? Giacomino che forse diceva, il Marocco si sa è forte fisicamente, cioè siete proprio strutturalmente con un DNA che vi porta ad andare molto 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 forte. Sì, questa nazionale ha alcuni elementi, altri sono molto più tecnici, più quasi europei, infatti molti giocano i massimi campionati europei, comunque sono nati qua in Europa, quindi le cose sono anche un po' cambiate. Chi conosci di loro? Ho giocato insieme a Chedira, a San Giustese, e mi ha stupito, mi ha orato molto, l'ho seguito anche... Perché poca non gli era in B, no? Sì, è una grande favola del calcio in questo momento. Sì, sono veramente contento per lui. E chi non lo sarebbe? Allenatore, perché si è fatto spedere un quarto d'ora. Tutto è andata bene. Dacci un pronostico sul campionato mondiale. Ah, io sono di parte, spero vincar il Marocco. C'è tanta simpatia intorno alla squadra del Marocco e te lo si legge negli occhi quando si parla così. Del resto l'identità propria non si dimentica mai e credo che questa sia una buona cosa da richiamare anche per chi più, se volete banalmente, tifa Novara la propria identità. Ha ragione, perché un sacco di giocatori sono nati in Francia, l'allenatore è nato in Francia, ma tutti hanno l'identità marocchina, che forse è quello che è quel qualcosa in più che crea un gruppo e ti aiuta. Poi la qualità c'è, hanno una fascia destra tra Kimi e Zia, che voglio dire. Ce n'è, ce n'è. Ha fatto vedere un gran bel calcio, ci ha fatto divertire fino a questo momento e voglio sperare che ci faccia divertire fino alla fine di questo mondiale che con domenica avrà il suo epilogo. Quindi toccaferro perché in questo momento non vorrei dire delle cose che magari ti chiamano già per dirti il risultato. Ti aspettiamo, ti aspettiamo. Per quanto riguarda questi tuoi compagni che hanno, ex compagni, insomma, che dire hai avuto a che fare, hai detto, quando facevi la Serie D, vederlo così proiettato in alto in questo gota del calcio mondiale, che effetto ti ha fatto, che sogni ti ha acceso ancora di più? Dillo onestamente, senza problema. Ho visto, cioè, avendolo conosciuto, comunque sapevo che, cioè, avendolo appunto conosciuto, so che è uno che lavora molto, che è in allenamento da sempre tutto e alla fine, cioè, secondo me paga quello. Cioè, lì è lui per quello, molto per quello si fa tutto. Ecco, anche queste cose sulle parole di un semioli che deve scatenare l'entusiasmo, deve trasmettervi la forza, deve darvi, come si suol dire, un obiettivo preciso da voler conquistare con tutto voi stessi, anche avere degli esempi davanti, come quello di Chedira, magari ti aiuta a dare anche quei 3-4 passi in più, oltre la tua massima forza da spendere. Speriamo che ti torni utile. Ma tra 4 anni tocca a te. In questa parte. Del resto, appunto, prossimo mondiale, tra 4 anni, che ci vuole. Ricordiamoci, perché poi quando escono da Novara, diventano grandi campioni, è bello, ricorda. A me è bello dirglielo, anche quando sono qui, che noi tifiamo per loro e vogliamo che sia una grande carriera quella che avranno. Per quanto riguarda la partita, quindi dici, finito il primo tempo, torniamo a Novara a questo punto, con quel risultato di 3-0, il secondo tempo, secondo te Attilio, è diventata soltanto... La partita era finita. ...quei 45 minuti di attesa per andare a farsi la doccia calda. Secondo me, sì, ma ripeto, chiunque abbia fatto sport sa che capitano quei momenti lì. No, tu giochi per dire a tennis, perdi 5-1 e dici, speriamo che fischi in fretta. Però poi col tennis ti rifai con il secondo... Sì, voglio dire, comunque, insomma, io non condanno una squadra che sul 3-0 mi spiace, però è comprensibile. È chiaro che uno vorrebbe una squadra che gioca e gioca a fare un gol, due gol, tre gol, è capitato tante volte, no? Però è comprensibile. Soprattutto una squadra, ripeto, che non ha quei leader caratteriali che servono per fare le squadre forti. Io tra l'altro a Semioli voglio... Sembrano tutti bravi ragazzi e secondo me quei bravi ragazzi non sempre si fa tanta strada. Ma tu hai detto sembrano bravi ragazzi. Sembrano perché io non ho elementi per giocare. Anche se quello che ha detto Cailotti mi fa un po' pensare, no? Perché lui ha detto che con il nuovo allenatore è prima? Non glielo chiedo perché non può dirlo, però mi fa pensare. Attilio, se vuoi, ti propongo io una riflessione che si può fare. La differenza tra la partita contro il Pordenone, che è stata una partita chiave, e la partita che abbiamo appena lasciato alle spalle dove c'erano una serie di aspettative. Aspettative quelle di cui parlavi anche tu, proiettate in un'altra dimensione, di un'attesa di una stagione. Io parlo proprio a livello di partita. Erano due esami. Quando ti danno la convocazione con il libretto universitario vai e dici oggi c'è l'esame. Sono due partite che sono state attese in questa maniera. Quella col Pordenone e questa che abbiamo appena lasciato alle spalle con la Feral Pissarò. Ho capito. Ma per quale motivo noi potevamo competere con Feral Pissarò e Pordenone alla stessa stregua? E questa è la domanda che bisogna fare. Secondo me il Pordenone è più forte, la Feral Pissarò evidentemente è più forte e noi dovevamo giocarcela meglio che potevamo. A Pordenone abbiamo scelto di fare le barricate, non abbiamo fatto un tiro in porta e abbiamo perso. col Feral Pissarò abbiamo avuto tante occasioni e abbiamo preso quattro pere. Alla fine della fiera... Però qualcosa di buono c'è in tutto questo, secondo me. Qualcosa di buono... Te l'ho detto prima. Secondo me... Va salvato. Va salvato e non condanna. Va salvato. Va salvato, certo. Quei 20 minuti del primo e del secondo gol sono stati positivi. Ma se non la metti dentro, amico mio, il gioco del calcio non è da scienziati. Deve avere... Io sono vecchio e mi ricordo i vecchi insegnamenti. Buon portiere, un buon centrocampista, un buon mediano e un buon attaccante. Se tu hai questa linea puoi costruire. Però tu non puoi sbagliare i gol che abbiamo sbagliato. E puoi pretendere di competere. E soprattutto quando tu vai a prendere dei gol che sono imbarazzanti. Mi piacerebbe che si potessero rivedere quei gol. Sono gol presi, ma proprio male. Con i giocatori avversari che si passano la palla in mezzo all'area. Poi è chiaro che esce male il portiere, quello ti fa bene. Ma è tutto un insieme di cose che non può funzionare. Quindi, francamente, il problema sono le aspettative. Noi pensavamo, perché ce l'hanno detto, che questa squadra doveva vincere il campionato, è chiaro che adesso non siamo contenti. Ma se ci avessero detto, stiamo costruendo una squadra che in giro di qualche anno può andare in Serie B e quest'anno puntiamo a arrivare nei primi posti e fare il playoff, avessero detto, beh, stiamo rispettando il programma. Beh, io sono la base però di quei 20 minuti. Qualcosa ci andrei a costruire nel proseguo e nel futuro immediato della squadra. Poi si aprirà un altro capitolo di cui già si chiacchiera, si parla e probabilmente, non mi è dato sapere, il cosiddetto sottotraccia è già in movimento, ovvero il mercato dopo la pausa. Qualcosa succederà. Però la sapienza di poter riconoscere che non è con il mercato di riparazione, come viene chiamato, di metà campionato che risolvi le cose, lo satura è quella. Ma ascolta. Lo satura è quella. Tu sei davanti a un bivio, tu dico tu società. Sì. Allora, hai investito tanto e di questo si ringrazia il presidente. Vuoi puntare a vincere il campionato? Devi reinvestire tanto e fai all-in come quando giochi a poker. Va la pena. Oppure invece fai qualche aggiustamento per avere una squadra che abbia delle basi solide sulle quali costruire? Poi ognuno sceglie. Siccome il presidente che mette i soldi sceglierà lui. A me però occupa in prospettiva. L'espressione in vero occupa forse è esagerata. Mi aspetto di vedere cosa succederà in prospettiva. Cioè tu vai all-in e perdi e vai a casa. Non vorrei che il paragone fosse... Capisce? A me piacerebbe una società che programma. Non che dice in Serie D dove vince per forza non si discute. E abbiamo vinto. Il presidente ha fatto grandi cose e abbiamo vinto. Ora, la squadra per vincere la Serie C non ce l'abbiamo. E ripeto, vorrei augurarmi di sbagliarmi ma proprio faccio il bagno nella fontana. Quale? Questa qua. Noi ce lo segniamo. Se vinciamo, giuro. Che deteniamo o no. Giuro. Abbiamo dei grandi professionisti. se andiamo in Serie B venite faccio il bagno nella fontana. Attilio Barbarassina l'ha detto. Vestito sì no perché non sarebbe un gran vedere però vestito. Con i tempori primaverili insomma ci sta. Però ripeto bisogna organizzare la società e la squadra in maniera che abbia una prospettiva. Tu oggi vai a fare i playoff perché è una squadra la playoff questa. Vai avanti fin dove arrivi e se va bene io faccio il bagno in piscina nella fontana. Ma altrimenti su questa base costruisci con un allenatore al quale tu dai ai giocatori che chiede perché funziona così. Magari si può pensare anche in un altro mondo ma non importa. Tu giochi con un 4-3-3 e non hai gli esterni adatti per giocare così. Va benissimo. Allora tu costruisci da questa base costruisci qualcosa e l'anno prossimo sarà meglio di quest'anno. Dovrebbe dovrà essere meglio. Oppure dici io quest'anno adesso compro Messi e Mbappé e vengo il campionato. Dubito che siano disponibili sul campionato. Non so aveva chiamato ha ricevuto qualche ti hanno chiamato Omar per pensare che era Mbappé mi sembrava di aver visto però forse ho visto ci può anche stare questa cosa. Siamo a un bivio tu dici mercato il mercato vabbè a parte che non è che ci siano i giocatori sono accasati quindi quello che riesci a dare come collettivo alla squadra è andato bene un anno che abbiamo preso Seferovic che ci ha cambiato la squadra ma non è che ti va sempre bene così vedremo cosa esce dal cilindro però tornando a quello che è l'organico a disposizione lo so che è stato un po' accantonato negli ultimi giorni ma tutti diciamo i primi sei giorni che ridavamo al miracolo e quello stesso miracolo nel volgere di poche partite si è trasformato bisognerebbe sapere come si è svolta la prima fase della preparazione come è poi continuata con Cevoli perché la sensazione è che il lavoro che aveva fatto Marchionni l'aveva portato la squadra ad essere pronta a partire e poi se non fai un certo tipo di lavoro poi la paghi dopo a me sembra che oggi siamo anche un po' in difficoltà fisicamente potrei sbagliarmi ma non siamo più brillanti ma non siamo più brillanti però questa cosa che era già stata fatta a notare non sei il primo ad averla sollevata questa obiezione ha trovato anche dei correttivi io semplicemente guardando il ruolino di marcia degli appuntamenti settimanali dell'allenamento le doppie sedute non le vedo più forse le fate una forse una volta però quelle che prima erano frequentemente delle doppie sedute oggi si vede che è uno scarico rispetto a quello tu a quanto stai rispetto al 100% per esempio io penso di stare abbastanza bene fisicamente tu la corsa ce l'hai gli anni hai quelli giusti per poter correre a tre polmoni anche a quattro volendo e quindi non fermarti mai un attimo ma dico in generale pensi che ci sia un margine per crescere ancora quello sempre secondo me però parlo me sicuramente per certo sento sto bene tu l'hai anche già segnato tra l'altro si sei stato contento perché ho visto quanto sei stato contento a chi l'hai dedicato era il mio ragazzo che era in tribuna si ah quindi hai avuto proprio occasione di produrti faccia a faccia sei un grande Omar nel senso che queste cose fanno piacere perché sono riferite da te con una semplicità e una naturalezza veramente straordinaria e il tuo percorso la tua carriera che ci hai riassunto brevemente all'inizio mette già in evidenza che hai delle grandi aspettative il tuo sogno vero al di là che tra quattro anni giocherai il mondiale ma l'ha già detto Attilio non vorrei farti ripetere qual è il tuo grande sogno nel cassetto come calciatore Omar Kaido la nazionale il mondiale il campionato mondiale hai visto mi sa che va a finire che tu farai il bagno nella fontana ma volentieri non sapete quanto sarei contento eh sì saremmo tutti molto contenti Fede prometti che vai anche tu a fare il bagno nella fontana vestita vestita anch'io tu puoi fare anche i bikini tu io no lui ha detto però vi hai ragione adesso non è però vestita lo faccio anch'io dai va bene anche tu facciamo insieme il bagno e noi faremo le foto e voi documenterete perfetto faremo le storie di Dino si dice va bene va bene allora per quanto riguarda la partita abbiamo raccolto qualcosa alla fine sì l'intervista l'intervista post partita di mister Semioli quindi ve la lancio sentiamo le sue parole è stata una partita dove partita subito in salita e dopo il gol che abbiamo preso poi c'è stata secondo me un'ottima reazione abbiamo abbiamo fatto una mezz'ora buona dove secondo me abbiamo sprecato veramente troppo abbiamo avuto 4-5 palle gol per poter rimettere in pista la partita e poi la squadra ha preso gol troppo facilmente in situazioni di gioco è sembrato troppo fragile in alcune circostanze quindi sicuramente c'è da lavorare da rivedere alcune situazioni si è vista una squadra che una volta che ha preso gol il secondo e il terzo è molto fragile molto fragile da quel punto di vista secondo me dobbiamo dobbiamo far di più dobbiamo cercare di tirare fuori ancora di più quel carattere che abbiamo fatto vedere in mezz'ora perché le partite poi durano 90 e passa minuti quindi non possiamo permetterci di avere questi cali di attenzione ritorniamo in onda dopo aver ascoltato le parole di mister semioli anche lui insomma un po' abbattuto da quello che è stato il risultato è comprensibile io tra l'altro mentre scorreva la conferenza stampa post gara ho saputo che Omar ha il doppio passaporte tra le sue ambizioni è riuscito a partiglio a estorcer di era quella che dice ma perché la nazionale marocchina potrei anche giocare in quella italiana il prossimo mondiale il prossimo mondiale no anche che dire avrebbe potuto giocare con l'Italia invece ha giocato col marocco mi sa che gli è andata bene va bene tanto per dirla così per quanto riguarda il merchandising il merchandising ci teniamo a dirlo perché Natale è dietro l'angolo e farsi un buon regalo della squadra del cuore che è la propria radice la propria origine è sempre una cosa da tenere in considerazione quindi le maglie tutto quello che è la divisa gioco e anche parte del merchandising che prima si trovava solo online nella vendita online la trovate in esclusiva da Decathlon a Novara dove c'è un corner con tutto dedicato al Novara Football Club quindi dalle maglie di gioco io potrei prendere la 15 perché mi sa che come misura mi sta bene la tua dovremmo starci dentro magari se mei regali sono anche più contento ma non fa niente è giusto con autografo o ci provo tutte le volte poi alla fine finisco in mutande e farò il bagno anch'io con voi a posto come stanno andando tra un casino così stanno bene quella fontana quella fontana magari poi ci spostiamo in piscina e ce lo sbagliamo lì la cosa la partita che sarà la prossima che giocheremo sarà sabato pomeriggio 14.30 contro Trento una partita che vorrei neanche presentare perché che cosa possiamo dire di una partita contro Trento più che guardare all'avversario più che ogni altra cosa credo che dobbiamo guardare a noi stessi bravissimo ci sarà tensione ad avere una prova che possa diradare queste nebbie di stagione e lì si vedrà anche quello che dicevamo prima sul carattere di alcuni elementi più di esperienze di Novara come raggiscono perché non si può pretendere che siano lui o altri ragazzi giovani a prendere il mano alla squadra ma non perché si trova qua lui in questo momento e è tenuto a dare delle risposte è una persona vediamo come raggirà la squadra certo che abbiamo conosciuto e quel quel senso di affanno nel momento in cui si va in difficoltà che si traduce poi in un gioco confuso con poco concetto di squadra dal mio modestissimo punto di vista può essere veramente la chiave di volta se dovesse capitare di andare ma voglio sperare che così non sia ma se dovesse capitare di andare in affanno ritrovare il senso di giocare l'uno per l'altro questa qui è la situazione ve lo auguro veramente di cuore spero che da questa cosa se ne venga fuori con un bel regalo di natale per tutti per voi stessi con quella sana dose di egoismo che in questi casi è richiesta grazie Omar grazie a te ringrazio te Fabrizio grazie grazie Fede grazie ai nostri ospiti Omar e Attivio per essere stato grazie a voi stasera vi ricordo che andiamo in onda ogni martedì sera alle 22 al canale 814 di Sky MS Channel ringraziamo il bar Covo per averci ospitati vi ricordo sotto i portici di Corso Italia 51 e l'appuntamento è la settimana prossima un saluto buona serata grazie a tutti grazie a tutti Grazie.